Unire le forze per far fronte alla crisi economica. Caro energia e conseguenti bollette alle stelle stanno soffocando le imprese. Per questo motivo le associazioni di categoria di Taranto, che rappresentano il mondo dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio e dell'industria, hanno chiesto e ottenuto un incontro con il prefetto per rappresentare al meglio le problematiche di oggi, che stanno mettendo a serio rischio il domani di lavoro, imprese e famiglie. L'obiettivo è far arrivare le proprie istanze anche a Roma, dove il nuovo governo che sta per insediarsi dovrà pensare a come intervenire per tamponare le falle causate dalla crisi energetica. Facciamo la nostra parte come territoriale, la parte che già stanno facendo le nostre associazioni a livello nazionale, di rappresentare al governo e anche ad alcune istituzioni territoriali la necessità di trovare una soluzione affinché le imprese possano onorare i propri impegni. Quando si parla di onorare i propri impegni si parla anche di stipendi, perché o si paga la bolletta o non si paga nessun altro e a volte neanche questa possibilità è data perché l'esossità della bolletta è straordinaria.